Sì, sì, sta tornando, sta tornando, sta tornando Non pensavo che l'avrei mai rivisto così e sono quasi emozionato Cioè, il mio personaggio preferito di tutto Dragon Ball che abbandona i combattimenti, abbandona tutto E torna così invece improvvisamente tra l'altro con quella tuta, torna con quella tuta Torna probabilmente nella forma Mystic Gohan, chissà, chissà, però torna con quella tuta E torna pronto a combattere, torna pronto a combattere Torna Gohan, signori torna Gohan, non so quanti di voi ho fatto mettere paura ma torna Gohan Non ci credo, non ci voglio ancora credere Spoiler, no spoil, non me ne frega nulla Tornerà Gohan a combattere in Dragon Ball Super Mamma mia, mamma mia La notizia che aspettavamo da tempo è finalmente giunta Oddio, spero che non sia la saga finale, lo spero vivamente Però abbiamo finalmente l'annuncio della nuovissima saga di Dragon Ball Super E quindi, a maggior ragione, questo va anche ad avvalorare la mia tesi che vi portai nell'ultima review E cioè che questa saga che stiamo per vedere, questa qui di Hit Probabilmente sarà un filler Se anche non sarà un filler, comunque sarà sicuramente meno importante Della prossima saga che vedremo Perché, signori, dal 5 febbraio 2017, ovviamente parlando in Giappone Avremo l'inizio della saga, probabilmente, del multiverso E con tutta probabilità avremo per ogni universo squadre da 10 e dico 10 combattenti Che se ci pensiamo sono un'enormità Se vogliamo tener conto che probabilmente arriveranno il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto Fino ad arrivare al dodicesimo universo Signori, ci saranno un'infinità di personaggi E questo potrebbe farmi pensare che, ovviamente, se ne sono 10 Avremo tantissimi personaggi E probabilmente potrebbe anche essere la saga finale Perché, signori, aggiungere così tanti personaggi mi sembra un attimino strano Quindi, o si giocano tutto qui O non lo so come andrà a finire Comunque, vi dicevo, è possibile che avremo 10, e dico 10 combattenti Ed abbiamo anche, forse, la squadra del settimo universo Infatti abbiamo questa sorta di locandina promozionale di questa nuova saga In cui vediamo, come personaggi Majin Buu, Krilin, C-18 Con una tuta, credo, da combattimento Abbiamo un ritorno particolarissimo E abbiamo, signori, C-17 Tra l'altro, tra l'altro, io provo a fare anche qualche zoom se riesco Abbiamo questo C-17 con una scritta sul braccio Che sembra quasi una fascia da capitano delle squadre di calcio Con scritto tipo Ranger Quindi, non lo so, probabilmente tornerà a combattere anche lui in Dragon Ball E probabilmente farà proprio parte della squadra del settimo universo Quindi, un ritorno decisamente ci sta, dai, ci può stare, secondo me Poi abbiamo, ovviamente, il nostro carissimo Goku Abbiamo Vegeta, ovviamente, sempre con i loro outfit originali Non si sa perché non si è più tornati agli outfit, ovviamente, di Resurrection of F Abbiamo, signori, lui Abbiamo Gohan Guardate quanto è figo È tornato di nuovo con il suo Ghi Con il Ghi da Mystic Gohan Ultimate Gohan Gohan Supremo Mamma mia Non vedevo l'ora di rivederlo così Tra l'altro, c'è stato questo piccolissimo cambio nei capelli Non ha più capelli come una volta Si vede che sono un attimino più corti Però, signori, spacca lo stesso Guardate che espressione che ha Oddio Sembra comunque un attimino meno incazzato di quanto lo era nella saga di Majin Buu E ci può stare Però è tornato, signori È tornato Gohan Tra l'altro abbiamo anche il Maestro Muten Che può darsi se lo sono portati, non lo so, come tifoso Non si sa Abbiamo Tien Abbiamo Tenshin Non abbiamo Yamcha Non abbiamo Yamcha Giustamente Ma abbiamo il nostro carissimo piccolo Che ci sta, secondo me, tantissimo E quindi, signori Detto questo Le informazioni che abbiamo su questa nuovissima saga Sono queste qui Secondo me, già il ritorno di Gohan Vale mezza saga Se non tutta la saga Tra l'altro, ultimamente Sta girando anche una sorta di rumor A cui pochissimo ci credo Che vorrebbe che in pratica Gohan Si trasformi in Super Saiyan Blue Dopo la morte di Goku Ovviamente nella prossima saga O saga filler Tutta sincerità ci credo pochissimo A maggior ragione Se la saga di Hit Sarà una saga filler Anzi, ci credo pochissimo Proprio nella trasformazione di Gohan In Super Saiyan Blue Possibile che ci possa essere Qualcos'altro Qualcosa che vada oltre Il potenziale sbloccato Qualcosa che possa andare oltre Il Super Saiyan di secondo livello Magari Un attimino come è successo con Trunks Ma la vedo davvero durissima Che possa raggiungere il Super Saiyan Blue Comunque a questo punto non ci resta che aspettare E sapremo sicuramente le risposte A tutte le nostre domande E quindi signori Detto questo direi che possiamo anche Concludere qui questo video Che probabilmente deve essere stato Il primo video di giornata Perché ce ne sarà un altro Alle ore 15 Probabilmente O forse questo sarà delle 15 Chi lo sa Chi lo sa Comunque In tal caso Rimanete sintonizzati Perché probabilmente Potreste vederne delle belle Ovviamente Se questo video è uscito alle 15 Vuol dire che dovete recuperarvi Quello delle 13 e 30 Se questo è uscito alle 13 e 30 Recuperatevi quello delle 15 Anche se non c'è nulla da recuperare Perché Non è ancora uscito Ok Lasciamo stare Recuperatevi ovviamente Il secondo video di giornata Perché È un qualcosa di incredibile Riguardante Dragon Ball Xenoverse 2 Non perdetevi Assolutamente Quelle informazioni Quindi Lasciate un bel mi piace Lasciate un commento Fatemi sapere cosa ne pensate Di ciò che abbiamo parlato Per l'appunto In questo video Iscrivetevi al canale Ovviamente Se ancora non siete iscritti Condividete questo video E quindi vi do appuntamento Come al solito Ad un prossimo Video Iscrivetevi al canale